Come associazione ambientalista Fareverde, ma soprattutto come cittadini, ci chiediamo se in materia di igiene urbana l'umido, che costituisce il trattamento della frazione organica dei rifiuti, verrà conferito nel centro di compostaggio. Un quesito, questo che l'associazione ambientalista Vittoriasi gira al sindaco Nicosia e proprio al riguardo, ha inoltrato lo scorso 24 ottobre formale richiesta per un sopralluogo al centro in questione, una sorta di visita informativa per vederne lo Stato, comprendere le dinamiche di funzionamento e la reale volontà di utilizzarlo. Fareverde ricorda anche che del ciclo dei rifiuti se ne parla tanto in città, soprattutto in termini ambientali, occupazionali, ma soprattutto di tasse per i cittadini. Tra l'altro Vittoria non ha ancora avviato la raccolta differenziata, mentre altri centri limitrofi sono già più avanti. Fareverde ricorda anche che sono stati spesi diversi milioni di euro per il centro di compostaggio di contata Pozzo Bollente e che in provincia di Ragusa ne esiste solo un altro, proprio nel capoluogo e anch'esso non è ancora attivo. L'associazione ambientalista vorrebbe quindi dare risposte oltre a fatti concreti e in quest'ottica chiederà che vengano poste in essere tutte le azioni necessarie verso un celere e effettivo utilizzo dell'impianto. Quindi verrà chiesto un incontro allo stesso sindaco Nicolosi e all'assessore all'ambiente per condividere insieme un percorso che possa finalmente, rimarcono i vertici di Fareverde, inquadrare la gestione dei rifiuti in un'ottica di risorse e non solo di oneri per la cittadinanza.